Qui ad Alghero abbiamo incontrato Giuseppe, ho visto il suo Monster con la scritta Zegna e gli ho chiesto che cosa fosse. Lui ha vinto il Monster grazie al motociclismo, nel 2006 era appena stato lasciato da una ragazza, ha detto vabbè proviamo, voglio fare qualcosa. C'era una pubblicità di un profumo, è andato a comprarlo, ha legato il tagliandino al ritaglio della pagina di motociclismo e ha provato a partecipare al concorso. Oggi dopo sei anni si è presentato con la Monster, Zegna, è ancora felice, possessore. Felicissimo, ultimo 6,20 prodotto, prima del cambio a 6,95, va benissimo, perfetto. E ci seguirà lungo la strada per Bosa oggi. Grazie a tutti.